Negli ultimi giorni in municipio il commissario Rosario Arena a fine mandato ha messo la firma anche sul bilancio di previsione 2019. L'ITER è stato concluso con il sì definitivo anche agli atti correlati dal piano delle alienazioni a quello delle opere pubbliche. Il collegio dei revisori dei conti, presieduto da Carmela Ficarra e composto da Giuseppe Nicoletti e Pietro Gioviale, ha emesso parere favorevole riscontrando la possibilità dell'ente di raggiungere l'obiettivo degli equilibri di finanza pubblica nell'attriennio 2019-2021. Allo stesso tempo i tre professionisti nella nota conclusiva tengono però a precisare che bisognerà stare in guardia su due fronti che da anni ormai mettono in crisi le casse dell'ente, il contenzioso passivo e i debiti fuori bilancio. riguardo al fondo del contenzioso si raccomanda il monitoraggio costante per un ammontare addirittura di circa 20 milioni di euro. A tanto ammonta proprio il contenzioso dell'ente. L'altro versante che preoccupa è appunto quello dei debiti fuori bilancio. In questo caso i revisori raccomandano a tutti i dirigenti di predisporre gli atti necessari al riconoscimento della spesa. Sotto questo aspetto i tre professionisti chiedono ancora ai dirigenti di trasmettere all'area economico-finanziaria le informazioni periodiche proprio sui debiti fuori bilancio e sul contenzioso. Non manca neanche il monito sulla necessità di incrementare le entrate tributarie. Per i tre professionisti infatti bisognerebbe potenziare l'azione di riscossione e di contrasto all'evasione di tutti i tributi locali nonché valutare l'opportunità di aderire alla definizione agevolata del contenzioso e alla definizione agevolata dei ruoli dei tributi comunali. Tutti i punti più volte esposti dai magistrati della Corte dei Conti regionale.